la protezione zero spalmata sopra il cuore oh no no dai te prego non puoi sta ancora così oh ma te sei cambiato non vengo a me ma come vieni oh no no dai te prego e che te basti a zambosera qua davanti di qualcosa no sicuro è dopo morire il film è come il film a 10 o 7 mila anni oh dai beh per se mi spegni io su no dai me va sto giocare sto giocare ma come sei il batticante qua su ma andiamo lì ci stanno pure i latri ci stanno tutti ci saranno pure tutti ma fa pure meno 26 gradi ma scusa ma parli proprio te è il figo che si è girato fino al mese scorso tutti i locali che ha la magliettina è stato addosso e ora che fai? ma come che è addosso dal freddo che devo fare? dai a parte scherzi non ce lo posso dire che stai qua tutto il sabato sera col coso a giocare namo dai non famo tardi cioè se bevemo una cosetta e poi tornamo si non famo tardi se bevemo una cosetta riconosco queste cose ok dai però voglio dire secondo me è una di quelle cose che poi tanto se non vieni è una di quelle serate che poi diventa figa io t'avevo raccolto e dicevo arco cane potevo venire e invece dai stantempo namo spingi sta cazzarola se me va me va non riesco a giocare fammi giocare non me va quando mi metti in testa una cosa viva mia io eh a parte secondo me tutte le volte che ti metti sta linguetta davanti per farsi i giochi intelligenti secondo me prima o poi ti si incastra comunque fammi sapere divertire mi raccomando a Doni Manero di Montesagro ma va 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 divertire a Doni Manero di Montesagro